Ciao a tutti, Marco Vigilini, questo è il video numero 2 e in questo video vedremo come volare in Minecraft ebbene sì, in Minecraft si può volare, oggi vedremo come volare in Minecraft allora, avviamo il mondo che avevamo creato la volta scorsa questo mondo, come potete vedere, ha i trucchi abilitati ok, io sono in modalità sopravvivenza e non riesco a volare come si fa a volare? allora, per volare bisognerebbe premere velocemente la barra spaziatrice ok, però in questo caso non è possibile, ci sono due modi per volare t, slash, bisogna mettersi in modalità creativa in modalità creativa, barra e sto volando per volare più in alto, cosa fare? basta premere nuovamente la barra e tenerla premuta come si fa a scendere? si preme il tasto shift sinistro quello che sta appena sopra il tasto control a sinistra come si fa a smettere di volare? basta premere velocemente nuovamente la barra e si scende se io fossi in modalità sopravvivenza game mode S come si può volare in modalità sopravvivenza? sembrerebbe impossibile invece, visto che noi siamo coloro che hanno avviato il mondo siamo sicuramente degli operatori o pi, poi vi spiegherò che cosa significa nel dettaglio in un altro video io posso darmi anche un altro tipo di abilità ability a chi vogliamo dare questa abilità? in questo caso ci sono soltanto io metto marcov spazio e posso per esempio concedere l'abilità di mayfly questa modalità questa abilità la metto a true quindi adesso io sono in modalità sopravvivenza però posso anche volare tant'è che se io premo velocemente la barra spaziatrice cado e mi faccio anche male guardate ok guardate i miei cuoricini come si stanno riprendendo velocemente faccio vedere quest'altro comando ability marcov voglio sapere se marcov ha la possibilità di volare è sufficiente digitare ability marcov mayfly e il minecraft ci risponde che l'impostazione etro cioè marco in effetti può volare se io la cambiassi la mettessi a false e lasciassi e digitassi nuovamente mayfly chiedessi l'abilità mayfly mi viene restituita con diciamo il valore false quindi marco adesso in effetti non può più volare ok è tutto anche per questo video e ci vediamo al prossimo ciao 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 Grazie a tutti.